per la settantaquattresima edizione della Festa del Vino dal 1 al 10 settembre. Il programma prevede venerdì 1 settembre l'anteprima. Aspettando la Festa dell'Uva in collaborazione con Atom e Locus. Dalle 20 e 30, Piazza Martiri, presentazione del programma e DJ Set Party. Sabato 2 settembre, gara nazionale di bocce e torneo di calcio. Alle 16 e 30 in Piazza Martiri, la tradizionale consegna delle chiavi della città. Scarica gratuitamente l'app News 24 e leggi gratis i nostri giornali. Se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.